Ciao bambino, ciao bambino, oggi vi presento un libro particolare, un albo illustrato molto bello, molto disegnato, anzi illustrato divinamente, con dei colori fantastici, colori della natura e anche di un tempo un po' lontano. Questo albo ci presenta NUT, si intitola I perché di NUT e l'hanno scritto Luca Tozzi e Sara Carpani, edito da Pulce Edizione. Sono in pratica le domande di una bambina della preistoria, che sono poi tanto simili ai perché dei bambini e delle bambine di oggi. Si ringraziano per questo libro il dottor Lorenzo Muzzi, che ci ha aiutato a immaginare, dicono, una giornata qualsiasi di 4.000 anni fa sulle sponde di un lago del Trentino e Dario Grillotti, che ci ha aiutato a rendere l'atmosfera. Ne leggiamo pezzetto? I perché di NUT. Perché nelle mie mani l'acqua non ha colore? Ma il grande lago è azzurro? Perché l'acqua può sorreggere una piroga? Ma non riesce a sorreggere me? Perché non sono brava come Aki a spruzzare le goccioline? E perché se muovo le braccia non spicco il volo? Insomma, un albo sulla conoscenza, sulla curiosità e su tutti i perché fanno presente ai bambini e alle bambine il mistero della vita. Questo albo illustrato si intitola I perché di NUT. L'hanno scritto e illustrato Luca Tozzi e Sara Carpani per Pulce Edizioni.